Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, è lunedì e oggi facciamo l'analisi ciclica e tecnica dei mercati, delle criptovalute perché in settimane è successo un po' di tutto sulle altcoin che hanno performato alla grande alcune hanno fatto i super botti, alcune hanno dato prova che questo mercato è ancora vivo ha tanto probabilmente da dimostrare, sono contentissimo perché siamo qua da anni a parlare di questo mercato spesso snobbato e invece non è così, molte altcoin hanno dato grandi segnali, sono molto contento speriamo continui tutto questo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per quanto riguarda invece bitcoin è rimasto chiuso nella sua barra di congestione vedremo tra un po' è un triangolo, perciò per alcune situazioni io ho preferito uscire dalla mia posizione anzi vi faccio vedere subito la mia posizione presa su uno dei miei trading system questo è quello che utilizzo nell'academy di trading on trovate sempre il link in descrizione, chiunque voglia entrare in academy premium e vedere questi segnali per imparare a utilizzare anche dei segnali e dei trading system è un'academy di formazione, ve lo ricordo non è un canale di segnali nel momento in cui avevo preso posizione, tantissime abbiamo seguito questo trading system che è quello più importante che c'è in questo momento su bitcoin 8.900 siamo entrati long e poi siamo usciti questa mattina intorno ai 9.480 perché sono uscito da bitcoin? Perché il mercato è complesso in questo momento e in questo momento durante una fase di riflessione ho preferito prendere profitto con la parte trading resta sempre in essere ormai, lo sapete, la parte in hold ma ci spostiamo sui grafici tra poco, devo solo dirvi un'altra cosa proprio in vista di questo grande boom delle altcoin e delle vostre risposte al mio video precedente dove ho parlato di tutte le altcoin, sono molto contento ho deciso di fare un webinar che inizierà tra poco sul canale telegram trovate il link per registrarvi ed è un webinar sul CRO e come utilizzarlo, come poter fare profitto con le diverse strategie che ci sono lì all'interno ma farò comunque anche un video per il canale YouTube prima di spostarci sul grafico vi chiedo l'ultima cosa di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un pollice per aiutarmi con l'alcolitmo YouTube e tutti i commenti del rito per queste informazioni che vedremo oggi ci spostiamo sui grafici dietro di me già lo vedete il grafico in questione di Bitcoin Bitcoin contro dollaro prezzi Bitfinex andiamo a fare prima l'analisi ciclica scusate prima la tecnica ragazzi allora Bitcoin è fermo completamente all'interno di questo triangolo che vedete in questo momento 1, 2 e 3 allora questo cosa significa? significa che in questa settimana Bitcoin si è bloccato proprio all'interno di questo triangolo e c'è anche uno dei miei indicatori che uso per la volatilità e per il take profit ho fatto anche un video a tal riguardo che lo pubblico in Academy ogni settimana che mi ha indicato che è da attenzionare perché questa settimana potrebbe esserci in effetti uno scoppio di volatilità per essere così dobbiamo tenerlo in considerazione se dovessimo arrivare verso venerdì circa ragazzi senza nessuna volatilità per Bitcoin la probabilità che settimana prossima ci sia un super boom da qualche parte sarebbe molto più importante ma ne parleremo ne parleremo se dovesse avvenire questa cosa andiamo a vedere quindi che essendo un triangolo anche per questo io sono uscito e uno dei miei quel mio trading system ragazzi ha preso profitto perché essendo un triangolo non abbiamo idea il mercato dove potrà andare perché potrebbe rompere in effetti al rialzo questa parte qui e andare boom a impattare con la nostra resistenza a 10.500 resistenza ormai importantissima io mi aspetto che se Bitcoin dovesse arrivare qui farà una rottura di questa resistenza cambierà radicalmente tutto quello che è i successivi mesi di Bitcoin quindi è importantissimo questa resistenza ok? e se dovesse succedere ragazzi wow saremo sulle montagne russe ma potrebbe anche andare a fare questo discorso qui anzi durante le mie analisi cicliche che in questo frangente ragazzi sono estremamente confusionali per una serie di motivi ve lo dico chiaramente allora durante le fasi di trading range quando i mercati sono in trading range sia analisi tecnica sia analisi ciclica sia anche altre analisi sono molto poco importanti perché? perché il mercato è confusionario e fa semplicemente rumore quindi non dovete utilizzarle come se fossero degli orologi svizzeri come se fossero delle cose perfette e soprattutto andare a operare per esempio in situazioni così su Bitcoin non vi dà tanto spazio o operate su Future utilizzando magari BitMEX che ha delle commissioni molto basse perché avete poco margine ragazzi per fare queste operazioni perché vedete lo spostamento è veramente esiguo oppure meglio lasciare stare concentrarsi su altre coin per esempio abbiamo visto quello che è successo su anche Zillica la vedremo tra un poco ve lo metto alla fine del video insomma ci sono altre opportunità spostiamoci su altre cose quando vediamo i mercati così imbambolati ma da un punto di vista ciclico da un punto di vista ciclico c'è una scadenza su Bitcoin che potrebbe avvenire intorno al 10 di giugno circa è ancora confusionaria tutta la situazione ciclica di Bitcoin ma quella di Ethereum per esempio non tanto su questo poi ve lo faccio vedere tra poco perché secondo me Ethereum ha indicato una strada ben precisa mentre Bitcoin è ancora estremamente confusionario se dovesse avvenire questo tipo di andamento del mercato nulla pieterebbe a Bitcoin di tornare magari intorno anche ai famosi 8000 io non so ragazzi come vi avevo detto settimana scorsa non vedo il mercato con tanta voglia di scendere poi le crypto sono sempre da seguire giorno per giorno perché i mercati fanno poi movimenti enormi anche in pochissimi minuti perciò attenzione anche a dire ok non scendiamo questo non è quello che sto dicendo però anche la scorsa settimana vi avevo detto che secondo me andare poi giù vicino agli 8000 non so perché però non mi sentivo questa cosa molto imponente ma potrebbe farlo magari in prossimità di questa scadenza ciclica ma io non credo che il mercato in questo momento voglia scendere però ragazzi io lo seguo come seguo il trend sempre lo sapete quindi se dovesse girare a ribasso via con anche questo mercato vi ho fatto anche vedere che sono uscito dalle posizioni di trading long in questo momento non so se fra pochi giorni quel mio trading system entrerà di nuovo long è possibile ragazzi perché quello è un sistema di trading una strategia quindi può prendere posizione e rientrare di nuovo anche stanotte se il mercato dovesse dare un bel segnale va bene allora da un punto di vista ciclico questa è la nuova fascia temporale che ci aspettiamo perché il mercato ha sicuramente chiuso un ciclo qui dai minimi di maggio intorno al 10 maggio qui sta facendo del rumore non si capisce bene cosa sia in questo triangolo ma probabilmente seguirà Ethereum Ethereum ragazzi che guardatelo un po' come e cosa ha fatto allora Ethereum sta facendo probabilmente una ciclicità ternaria che adesso vi faccio vedere con un disegno ho notato che si capiscono meglio se li disegno così quindi probabilmente sta facendo questo andamento e in questo andamento ternario abbiamo una scadenza che invece viene portata ciclicamente intorno alla parte della decada centrale di giugno quindi intorno più o meno al 15 di giugno avrebbe ancora tempo per andare a fare qualche altro giorno di up in particolare è importantissima il breakout di questo livello di resistenza che io ho già indicato adesso come supporto perché? perché avendolo breccato a un certo punto sta facendo vedete il pullback di questo livello molto bello il trend di Ethereum molto più bello anche di altre coin come Binance per esempio ve la faccio vedere velocemente perché tanto non analizziamo oggi ma Binance vedete ragazzi ha fatto lo stesso tipo di ciclo di Ethereum ma non ha la stessa pendenza è più piegata anzi Binance è leggermente pericoloso perché ha fatto il ciclo con il doppio massimo 1 e 2 se non rompe questo livello di resistenza 18 e 4 è pericoloso perché potremmo assistere a questo tipo di andamento quindi dobbiamo stare attenti su Binance mentre invece Ethereum è stato di gran lunga più imponente della sua forza si è tirato anche dietro molte altcoin l'abbiamo visto nel weekend è stata una bella due giorni per le altcoin contro Bitcoin e ragazzi però in questo momento adesso deve dimostrare i muscoli perché vi faccio vedere una cosa guardate dove siamo e qual è il disegno di Ethereum nel medio periodo questi sono andamenti corretti quindi abbiamo un minimo un minimo inferiore un massimo un massimo inferiore attenzione perché dovesse prendere una fase di bassista da qui potrebbe tranquillamente scendere sotto i minimi precedenti e mantenere questo trend di bassista quindi dovesse fare una cosa del genere ragazzi vuol dire che siamo su massimi di medio periodo questa cosa è una previsione la chiamiamo così perché in questo momento i mercati non danno nessuna indicazione su quello che stanno per fare nei prossimi giorni sono ancora in trend di rialzista io spero questa view non si verifichi ve la faccio vedere anche su Bitcoin su Bitcoin è leggermente più spostata però ragazzi è questa è così va bene? ancora una volta dovesse fare una cosa del genere abbiamo minimo minimo massimo massimo minimo allora io non penso a una configurazione così violenta però un atteggiamento del genere sui mercati un disegno dell'analisi tecnica fatto così ci indica anche che i mercati in questo momento si hanno fatto delle buone fasi di alzista ma sono in bar di congestione inutile girarci intorno da un punto di vista di medio periodo sono ancora in trend laterale speriamo non si ritrasformi in un trend di bassista nei prossimi giorni questo lo vedremo comunque state sul canale iscrivetevi ragazzi e cliccate anche la campanella se volete le notifiche perché qualsiasi sia i movimenti siano i movimenti importanti noi li terremo d'occhio e li acchiappiamo poi acchiappiamo subito ragazzi va bene? ok andiamo poi a vedere Zilica che oggi sta facendo un super up questa è contro bitcoin quindi non è contro dollaro ma guardate che meraviglia che cosa ha fatto qui e poi scusatemi io ancora una volta lancio una freccia all'analisi tecnica che dà dimostrazione in queste situazioni di grandissima forza più di tutte le altre tipologie di analisi ragazzi perché questo tipo di configurazione che ha fatto questa altcoin è comune veramente comune una super barra di congestione gigantesca la vedete qui contro bitcoin poi mi va a fare il break del canale del livello di resistenza questo qui break in questo punto guardatelo poi fa un up conferma il break fa un pullback di una precisione incredibile e poi ci regala un super pump gigantesco dopo il pullback degno di uno dei più bei titoli del nasdaq durante la bolla di internet meraviglioso guardate che up che fa dal pullback fino alla giornata di oggi più 91% tra i minimi e i massimi incredibile bellissimo è un esempio lampante di quello che fa un'analisi tecnica sebbene applicata sui mercati ragazzi va bene e questo avviene sono dei disegni di lungo periodo bellissimi io non ho tradato vi dico da subito questo coin lo scorso settimana avevo fatto un mesego che aveva fatto il più 2000% però più 190% l'ho tradato con uno dei miei sistemi abbiamo preso un grandissimo profitto l'ho anche pubblicato sulla social di youtube ma non ho fatto questo perché non era sotto i miei radar quindi non stavo guardando il grafico e non avevo anche sistemi costruiti su questa coin ma ragazzi queste opportunità ci sono un sacco di volte può continuare il trend sì certamente ragazzi perché in questo momento è iper rialzista però sapete bene che le crypto spesso fanno questi super pump e poi vi danno una legnata quindi se siete su questa altcoin mettete training non perdete i vostri profitti uscite casomai se ci dovessero essere delle situazioni di estrema diciamo difficoltà di inizio fase ribassista quindi facciamo il recap per quanto riguarda bitcoin incerta la fase attuale sono uscito con le mie posizioni long lascio respirare nel mercato possibile una fase ciclicamente ribassista verso fine decade di giugno quindi significa che nei prossimi giorni potrebbe ancora spingere al rialzo ma abbiamo visto il triangolo è pericoloso stare in posizione quindi io dico ciao sbrigatevela voi io sono fuori e faccio altri altro trading su altra roba e ethereum più forte di bitcoin ha dato una grande slancio ha superato la sua resistenza principale la prima diciamo non è la principale quella 225 poi c'è l'altra che è la più alta intorno ai 282 e 90 quella è importantissima ma vedremo nei prossimi giorni se continuerà la fase di rialzo su ethereum c'è ancora rialzo è possibile come l'abbiamo visto anche su zilica l'ultima altcoin e su una serie di altcoin che abbiamo visto la scorsa settimana nel video continuano i trend rialzisti su bitcoin laterale in questo momento non c'è operatività noi ci rivediamo nel prossimo video chi di voi si è iscritto al webinar ci vediamo invece tra pochissimo ciao a tutti